e tra ora il proconsolo delle arti scordato da due nuzzi e dal suo bandieraio era il magistrato che soddisfetteva gli arti di scordare le arti, poi il tribunale di mercatanzia e di il dordicesimo settimo dalle arti che si adono tutela, il bandieraio con il segno del titale entrano quindi le arti maggiori con il corso legno e il cacciagliere